Sono stati diversi i disagi, i danni e allagamenti che i cittadini agropolesi qualche settimana fa a causa della pioggia hanno vissuto. In viale risorgimento nei pressi del parcheggio del fiume Testene, in località San Marco ad Agropoli, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per far abbassare il livello dell'acqua. Abbiamo chiesto al primo cittadino di Agropoli come l'ente si sta organizzando per la manutenzione delle caditoie che in alcuni punti della città sembrano siano state pulite da diversi anni. Per quanto riguarda invece la manutenzione della città di Agropoli, mi riferisco alle canaline che negli ultimi giorni abbiamo visto aver creato un po' di disagio, soprattutto nel rione San Marco, dove sono dovuti giungere i vigili del fuoco perché ci sono stati degli allagamenti. Ecco, come vi state organizzando in vista del prossimo autunno imminente? Qui le lamentele sono sempre accettate e noi lavoriamo per migliorarle, ma forse i cittadini di Agropoli dimentico, abbiamo fatto un intervento di quasi 10 milioni di euro di separazione di acque bianche e di acque nere, abbiamo messo in tutta la città caditoie, griglie, raccoglitori, nuovi canali, come mai era stato in questa città. Quindi è normale che può capitare anche la canalina che si ostruisce, questo naturalmente come sapete la manutenzione è ciclica, oggi gli operai che oggi stanno lavorando nelle scuole al 15 finiscono nelle scuole e cominciano la pulizia delle caditoie, è tutto un percorso d'estate, si comincia a lavorare sulle spiagge, poi di là si interviene sui luoghi di accoglienza, poi di là si interviene sulle scuole, poi di là si interviene sulla pulizia delle caditoie delle canaline e la pulizia dei valloni. E' un percorso di manutenzione che svolgiamo ogni anno e anche quest'anno lavoreremo per far questo. Però veramente voglio sottolineare che ora non per, come dire, molto spesso uno dice una cosa e poi succede, ma mi pare di ricordare che negli ultimi anni, giornale e tergiorale hanno parlato anche di comuni limitrofi a causa delle forti acquazioni, le enormi difficoltà che magari nella città di Acqua non sono accadute se non minime o molto ridotte rispetto al passato e questo proprio perché abbiamo fatto un lavoro enorme di costruzione di nuovi canali di raccoglitori di acqua e i cittadini lo sanno perché hanno visto le strade per molto tempo invase dalle ditte che lavoravano, quindi sanno bene che in ogni punto della città siamo intervenuti per migliorare la raccolta dell'acqua e per evitare allagamenti vari. Quindi è chiaro che è un lavoro che sta terminando, è chiaro che adesso naturalmente va collegato la pulizia costante delle caritoi, però penso che è una cosa che comincerà da qui a poco e daremo anche lì delle risposte positive.